Il primo premio ha vinto perché è stata veramente la condensazione, come ho detto prima, in due minuti di due ore e mezza di lesione in classe, cioè in una canzone tra l'altro con un rap molto accattivante. Riuscire a parlare di sangue, di gruppi sanguigni, di stili di vita, di quello che fa il sangue veramente ci ha conquistati, tanto che tutto il consiglio di Aves Comunale ha deciso che per quest'anno sarà proiettato all'interno della sede e sarà proprio il nostro inno per quest'anno in attesa di quest'altro anno, magari di qualcosa ancora di meglio. Si chiama Mediamente ed è il concorso per le scuole medie incentrato sul dono e sulla solidarietà legato ai sani stili di vita, organizzato dall'Avis Comunale di Argenta, i cui vincitori sono stati premiati domenica 9 settembre nell'ambito di un'apposita cerimonia. Questo progetto è stato presentato alla direzione didattica dell'Istituto Comprensivo 1 e 2 di Argenta, quindi tutte le scuole medie del Comune di Argenta che è molto vasto, tutte le classi sono state contattate, tutte le classi hanno aderito, 8 classi per un totale di 150 ragazzi. Di questi ragazzi che noi abbiamo contattato ci siamo presentati, abbiamo collaborato con loro per fargli esprimere quello che era per loro la solidarietà, perché il nostro primo principio è stato quello, cos'è per voi il dono, cos'è per voi la solidarietà. Da lì siamo partiti con delle lezioni frontali, dopodiché abbiamo chiesto ai ragazzi di fare qualcosa per noi, di produrre un qualche cosa che fosse la condensazione di tutto un percorso che avevamo fatto insieme. Con che cosa? Con qualsiasi tipo di prodotto che loro volessero. Poteva essere un cartellone, poteva essere un tema, poteva essere una poesia, poteva essere un prodotto multimediale. Quattro classi si sono presentate con il prodotto completo, quattro classi che noi abbiamo valutato tramite una commissione all'interno dell'Avis Comunale di Argenta. Come potrete anche vedere, appunto al mercato, al centro mercato dove sono esposti, i prodotti sono veramente... Quello che è uscito dal cuore, secondo noi, dei ragazzi è veramente un qualche cosa di toccante, perché i ragazzi hanno addirittura fatto, proprio prodotto, una coppa di premio per i donatori. Cioè non erano loro i referenti del concorso, ma loro hanno fatto un dono, hanno fatto una premiazione ai nostri donatori. Abbiamo appena visto questa importante premiazione che ha coinvolto appunto il territorio di Argenta, però insomma abbiamo capito che i modi per comunicare con i giovani sono tanti e voi stessi con l'Avis, con le tante sedi che avete in giro per la provincia, sicuramente avete cercato di entrare in contatto con tanti giovani in varie modalità. Sì, noi sperimentiamo diversissimi modi, anche perché i giovani sono il nostro futuro. Per cui, avendo la fortuna di avere tante persone nei singoli comuni che investono tutto il loro tempo libero per contattare i giovani, per parlare con le scuole, e che possiamo sperimentare attività nuove. Questa di Argenta è una di quelle. Andare a parlare nelle scuole con questi ragazzi ci ha dato anche veramente soddisfazioni e ci ha dato messaggi che non pensavamo neanche di ricevere, di crescere come adulti, perché in realtà quando parli con i ragazzi cresci anche come adulti. L'importanza qui di Argenta è un messaggio fondamentale sostanzialmente. Argenta sta investendo sul proprio futuro. Hanno messo in campo un progetto chiamato Argenta 2020, e si sono dati l'obiettivo di raddoppiare i loro soci nel giro di due anni. Questo è un obiettivo ambizioso, pensando che ovviamente facciamo difficoltà anche ad aumentare i nostri soci, però l'impegno che ci stanno mettendo sta dando anche qualche risultato. Il lavorare con i giovani, il lavorare con i giovani che insieme lavorano con le famiglie è uno di questi esempi di attività che facciamo nella collettività. Scuola e Avis Comunale di Argenta. Da anni l'associazione è in prima linea per promuovere i valori di solidarietà e di sensibilizzazione al dono del sangue tra gli studenti delle scuole e del territorio. Insomma, questi giovani hanno dimostrato che riescono a comunicare in una maniera molto semplice anche, molto comune a quello che è il loro modo di parlare, di cantare, vi discorrendo, e commettendo dei temi anche forti all'interno dei loro contenuti. Assolutamente, i temi del dono, i temi della solidarietà e non solo, ma proprio del fare qualcosa per gli altri regalando qualcosa agli altri. Non è una cosa così scontata, cioè il fatto di donare senza aspettarsi nulla veramente è stata la cosa che ci ha colpito maggiormente noi adulti. Loro invece hanno recepito benissimo, secondo me. Volevo precisare anche una cosa, la classe che ha vinto ci ha conquistati anche per un altro motivo. L'abbiamo chiamata una classe meticcia, una classe di una multiculturalità assoluta, cioè italiani, rumeni, albanesi, marocchini, pakistani, india, cioè veramente è da questo crogiolo di persone, è venuto fuori veramente un qualche cosa per noi di veramente toccante. Quindi un'Avis sempre più radicata in tutto il territorio, con, abbiamo detto, insomma vari modi di comunicare ai giovani, ma non solo, perché insomma il vostro messaggio è rivolto anche a chi ha qualche anno in più. Assolutamente, il nostro messaggio è rivolto soprattutto agli adulti, perché Avis fa raccolta di sangue. Avis si è posto l'obiettivo di mantenere l'autosufficienza in tutto il territorio regionale e nazionale, ma Avis ha anche un altro scopo, quello di creare solidarietà, creare corretti stili di vita, creare corrette abitudini alimentari. E il convegno che faremo adesso ha questo scopo, quello di ragionare insieme sul corretto stile di vita nel momento in cui ci si alimenta, si consumano dei cibi e soprattutto cercare di combattere quelle patologie, che a volte ci sono come l'anoressia o altre cose, che ci creano veramente seri problemi, soprattutto fra i giovani. Per questo motivo, sempre domenica 9 settembre, si è tenuto anche un incontro pubblico per affrontare i problemi legati all'alimentazione, dalle diete trendy, a volte nocive, alla sofferenza degli adolescenti che possono sfociare in onoressia e bulimia. La problematica è esplosiva e internet diffonde rapidissimamente delle modalità delle diete sbagliate. Quindi quello che dobbiamo fare noi è informare questi ragazzi di come e cosa andare a cercare su internet e di non fidarsi di quelli che ti propongono queste diete facili del raggiungimento di obiettivi domani o dopodomani, perché chiaramente sono tutte diete fasulle che fanno male. Cosa fare da questo punto di vista? Intanto accorgersene. La prima cosa importante è che i genitori o i bambini, insomma i ragazzi che si accorgono di avere questo tipo di problematiche devono rivolgersi a degli specialisti. Gli specialisti sono i nutrizionisti, cioè quello che riguarda la mia categoria, ma in questo caso, in questo tipo di pazienti, si lavora sempre in associazione con psicologi, con psicoterapeuti, perché il percorso deve essere un percorso strutturato. Altrimenti è difficile uscire da un disturbo del comportamento alimentare semplicemente con l'apporto di un nutrizionista o l'apporto di una psicologa e bisogna lavorare in team. Sono problematiche pericolose perché iniffiano così per gioco e finiscono in ospedale, insomma. L'anoressia ha anche delle complicanze molto gravi e quindi bisogna cercare di prevenire il più possibile spiegando a questi ragazzi che non si affronta in quel modo il problema di sovrappeso, cioè si affronta con criterio e con un po' di tempo davanti. Oggi si parla di un tema molto delicato appunto in questo convegno dell'Avis, i disturbi alimentari, un problema che affligge purtroppo tanti giovani e adolescenti. Ecco, al di là della problematica, come si pone l'Avis? Quali sono i consigli che lei oggi si sentirà di dare alle persone che hanno queste problematiche? L'Avis è in prima linea tutti i giorni. Prima, innanzitutto, seguendo quello che è lo stile di vita dei donatori e consigliando su come migliorare il loro stile di vita ai fini della donazione, ma non solo, proprio come prevenzione per la salute. In questo caso l'Avis, per il fatto dell'alimentazione, entra nelle scuole, quindi fin dalle scuole elementari, medie e superiori, proprio per dare il proprio contributo a informare i bambini e gli adolescenti delle problematiche di come si devono poi affrontare i problemi legati al cibo, legati all'alimentazione e questo, secondo me, è importantissimo proprio perché molte volte gli errori si fanno proprio perché non si conosce la realtà delle cose, non si conoscono i principi nutritivi, non si conosce come suddividere la giornata alimentare e questo, secondo me, è fondamentale proprio ed è un ruolo importantissimo che fa l'Avis e lo fa in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Professore, oggi un tema molto delicato, molto interessante anche, parliamo appunto di disturbi alimentari, lei in particolare parlerà delle sofferenze degli adolescenti in parallelo dell'indifferenza degli adulti che forse non riescono sempre a cogliere queste sofferenze. Ecco, cosa sono queste sofferenze e a che cosa portano? Dunque, i disturbi del comportamento alimentare sono una piaga che sta sempre di più emergendo a livello nazionale, ma a livello europeo e occidentale in generale. Quello che dobbiamo dire è che c'è una grande solitudine in questi ragazzi che, come vediamo, sono tutti o quasi tutti abbassati con lo sguardo sui social network, sui telefonini, sugli iPad e praticamente non comunicano né tra di loro e nemmeno con i loro genitori. Un momento fondamentale della giornata nella famiglia di sempre e anche di oggi sarebbe quello del riunirsi a cena insieme e comunicare le vicende della giornata o i desideri che si hanno. Questo non accade quasi mai perché i nostri ragazzi e le nostre famiglie sono prese dalla televisione all'ora di cena, dove c'è la partita, dove c'è il telegiornale, dove c'è il cartone e quindi manca proprio una relazione e questo porta a sofferenza, questo porta a desiderio di volerlo ma a impossibilità di averlo. Quindi dobbiamo ricordare a tutti i genitori di impegnarsi severamente molto sulla relazione con i loro figli. Solo questo ci può veramente salvare. Prima tra l'altro con il professor Franzoni parlavamo anche del fatto che spesso i disturbi alimentari derivano anche da problemi che possono nascere di natura psicologica, rapporti magari in famiglia, piuttosto che con amici. Quindi bisogna lavorare anche sul sociale da questo punto di vista. Assolutamente sì. E certo, noi che poi trasmettiamo un messaggio come quello del dono, quindi di qualcosa che riguarda la solidarietà, anche in questo caso cerchiamo di essere vicini ai ragazzi che vediamo e ai quali parliamo proprio anche provando di capire l'aspetto psicologico dell'età in cui si trovano. Quindi soprattutto nelle medie che è la fase più difficile. E infatti andiamo anche a trattare argomenti come la sessualità, nonché nelle elementari l'apparato riproduttore, per capire anche a volte quali sono i dilemmi che assalgono le menti di questi ragazzi così nella fase della crescita. Grazie. 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 Grazie.